Si è da poco conclusa questa prima riunione del tavolo tecnico sulle autostrade a 24 a 25. Abbiamo avuto buone notizie, una ottima quella che riguarda il traforo del Gran Sasso. Entro l'estate andrà in gara l'appalto per realizzare i lavori. C'è stata sinergia tra i due commissari, Corsini e Gisonni, per la messa in sicurezza sismica e per la sicurezza dell'acquifero. Hanno messo in sinergia anche le risorse, quindi quella piccola provvista, quella parte di provvista economica che mancava per andare in gara è stata reperita nelle risorse già disponibili, come da noi suggerito nel corso dei confronti, nei tavoli di coordinamento che erano stati convocati per questa ragione. E quindi siamo molto soddisfatti perché hanno accolto i suggerimenti, le richieste, gli indirizzi che la Regione Abruzzo e il territorio hanno dato per risolvere questo ormai più che ventennale grave problema dell'acquifero del Gran Sasso con l'assicurazione che i lavori permetteranno sempre che tutte e tre le infrastrutture, sia quella dell'acqua potabile, del traforo che dei laboratori del Gran Sasso, resteranno sempre aperte. Abbiamo poi chiesto al Signor Ministro e a tutto il tavolo di rendere pubblico il progetto che l'ingegner Gentile confezionò quando fece il Commissario e che ora è nelle mani del Commissario Corsini per sottoporlo alla condivisione, all'approvazione, al giudizio dei cittadini e dei territori attraverso in particolare i sindaci e il Comitato dei Sindaci e la prossima riunione che si terrà tra un mese e un mese e mezzo comincerà ad esaminare esattamente questo progetto. Il Direttore del Ministero Morisco ha assicurato la copertura economica fino a circa 3 miliardi di euro, sui quali potremmo cominciare a individuare le priorità degli interventi da fare laddove condivisi e nella prossima riunione la struttura tecnica del Ministero farà anche una proposta in ordine al tema delle tariffe e dei pedaggi con diverse soluzioni possibili da presentare e sulle quali poi ci confronteremo. Insomma, credo che si sia finalmente avviato un confronto reale, costruttivo, serio, di merito sulle questioni che abbiamo posto e che insieme ai sindaci sono state poste ormai da molti anni e speriamo che questa sia davvero la volta buona per dare una prospettiva futura e qualche certezza riguardo alla infrastruttura autostradale dell'Abruzzo.